Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. 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 le idee. che magari presenti. a tutti. a tutti. e tutti i corsiоль questi gapelatamente. andiamo a tutti. a tutti i corsi. inizio. Inverso, quando uno studia informatico ordinare studiare tecniche in parte, e dopo un po' di un ufficio di queste cose, per la più buona comprensione di persone, chi viene da una grande parte della mia non tempo del mondo, e chi informatico ruota una grande parte. A lì i bambini, ci tie, Charles Bedbridge, e anche Manichelle. Vi parlo a tutti i studenti, ma ci sono molte di abirino in questa storia, ma non mi culpano. Quindi, qui abbiamo uno, mi substituo la ruota. In questo caso, Manichelle è il vero che inventa il mito di Frankenstein. e questo è il vero che grava anche un po' di informatico. Chiar Citiujaro. Chiar Citiujaro, grava matematicista, uno dei gravi matematicisti del mondo. David Hilbert, mio hermano, lancia il programma per esplorare il programma per la matematica della nuova Jarsento, che, per ogni programma che è flanca risulta, tutta e neattendita risulta, che ottenga la fondamenta teoria dell'informatico. Citiujaro, in 1936. Citiujaro, in questo periodo, quando è stata molto lunga, o l'antava, è stata e che grava. Però, il tuo tempo all'inione non aveva giusta una razza, se il tuo, non lo aveva. La scelta è che vi comprendete quale accadere, quale. E, tutti, 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 almeno, al prossimo, al primo, dovrebbero prendere la propria lezione e guardare più grande. Per il prossimo, più dettaglio. E poi, in breve, in un'angolo, città, in un'angolo. di un'angolo. Non, non c'è un'angolo che ci sia. Per il che è grave, come Giuseppe Peano, o Bertrand Russell, Lo vodis, trovi fondamento, certi fondamenti del matematico. se io tutte le spalle ho la malcobre della città mi raccoglio che non mi chiede perdono che io senza ruinire la festa del programma tra i posti lì la parola di un buon amico tutte le attenzioni mi vuole sostenere il chat lì sono pensato che la matematica non è un problema 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 e io mi ricordo trovi l'arm da nombro che non mi può calcolare teorie in certa maniera c'è la computica base nei miei maschini se c'è il coro ci afferroi non existano se compremite non è sufficiente la teoria ciò non è anche deve costruire la fisica in parte e per questo è un altro uomo vero grazie chi resta John von Neumann io questa è adottita uso nano c'è una scrivita in Apungario che ho avuto vero interessante io mettermi dos dopo quindi io mi ho avuto il fondamento e ci ti via un po' la storia che c'è lo mio metteresumas va a spra istorio della pratempui di l'agio 1600 in l'agio 1600 naschillas la nuova scienza la esplorata della natura per matematica e l'invento e poi ciò crescillas che questa è la 19 cent esatto esatto matematica esce proposti fondazioni su logica per esempio che è un programma che ha calculebile ha senso fuori sui computini non avendo ha un da un 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 Grazie. Eci, tiu, iaro, poste, ni havas la modernan periodon, tiu senza la propra historia, ben formatico. Sed tiu esas sufficio complexa, cae ni besonas subpartigitium, al in case ne estas facile comprendi la historia in men. Cale prontio ni povas diri che, mi havas cittie, mi sianjas la maniera oscribile cittie, por comprimi che esas subparto, cittie esas da 2 monomilito periodo, ciam ogni consideris computmascinoi, ciel armidoi, cae fatte citui armidoi, helpis al retuio, cae fusono, benchi la batalla incontrao la japanuio, cae germanuio, ti intende, cae divido stia. De nove, un che era una figura uccitie, è stas avventuri. En 1946, giuste uno i aro posta fino della monomilito, non avevamo la unica moderna computina. Io non mi chiuso e neanche. e cinque computioli è scostruito per termovaldoi e se considera la tecnologia la fisica apparata per construire la computioli che distinguito con la generazione di computioli e dopo mi faccio la unica generazione mi noto che mi usavo la volta computioli non per la moderna io ho un caso grave andau 1946 mi faccio mi faccio mi faccio chiarire per ieri morti mi faccio spantare alcune maschine nella frattempo poste per un meccanico con poste maschinoe e infine coputinoe Divido questa differenza intercalculica e computi questa è molto importante che io mi devo sentire tutti però io nel libro che mi è scrivendo che ci sono in parte e vi avevano un floreto che mi conoscevi questo è anche un glossario di rapino e tra il libro vi potete vedere qualche saggetto che significa che questo vi potete trovare in la glossario per farci vedere e quindi mi dono e questo è grave comporti ciò 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 è ciò 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 è ciò 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 è che in il è che è ciò 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 è ciò 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 e ci sono due imposte effettive per qualche tempo in qualche tempo e poi ci sono due generazioni e ci sono due imposte e ci sono due imposte e ci sono due imposti non vediamo che ci sono due e la tre generazione è la integrità in seguito e ci sono due imposti e ci sono due imposti e poi ci sono due imposti fino a fine a fine ci sono due nel 1971 alla clara generazione per microprocessori quindi noi cominciamo a costruire computioli che può stare sulla tavola con quello il nome destro computers in anglia che è in esperanto tavola computioli per esempio e tutti i miei computioli non ci sono due imposti ci sono due imposti ci sono due imposti giusti guardate non chiaramente mi ha detto che mi ha detto che è stato� per comprare che io mi voglio fare ci sono dovuto sui computer personal chi è la personal computer cosa è ancora una parola pregitta giusti ci è stata una demanda mi farà la demanda ora c'è il mio spazio che deve sforzare tutto per i posti di fare città un pezzo che per le persone che potrebbero essere città nella mezza e adesso buona domanda a me le mando c'è un'è? buone? doni, può passare in pausa? d'accordo 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 non vuole sviluppare l'enso in un periodo e adesso mi prendo in un periodo in un'antica stagione d'accordo 1901 in un periodo 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 moderno in un periodo per esempio uno è Federico Fagino in un periodo in un periodo in un periodo in un periodo che non mi conosceva per lui in un periodo che l'ultimo Presidente in un periodo di Barack Obama doni a me speciali premio pro TIO che nemmeno attenti nell'Italia giornale in un periodo in un periodo in un periodo in un periodo che non fa il monopolo per il coro della computidora in un periodo è molto più confuso in un periodo dopo ciò è stato franzo ciò è stato franzo ciò vi vedete che la unua vendita con un potito moderna è Francia Deussona nomi in 1973 mi è micrall che è la unua? micrall ciò vi ha avuto il nome di questo e micrall è lo mo i z ro a lo e il budget per fare una computidora è molto grande e il mercato non è e l'entreprenore tutto non è che non è che non è nulla ma non è che ciò 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 mi ha avuto una grava film ciò mi parlò ancora più 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 quali non è venire più quali che non è ha un che vuoi dire un barcherista un barcherista un barcherista un barcherista un barcherista e che è un robot un robot un robot in questo film che si dice per il computo cambia la mia che è stato il primo con in cui ho usato il computo o il computo o il computo che è stato che è stato che è stato un barcherista in questo e il computo in questo il computo cambia in alto un barcherista un barcherista un barcherista un barcherista un barcherista quindi post il computo il computo grafico ciò 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 è immaginwald il popologio ciò comprendono che i computi possono essere usati non è nulla, come armini, come nel tuo mondo militare, o come strani affetti per i papi, che anche per amusaggi, anche per fare bene affetti, per fare alti, e per questo, questo è grave. Fate, giusto poste, nel 1907, la lìa filmo, è stella e migliori, e qui aveva una grande parte della computativa, e per questo filmo, aveva un po' di oscaro per effetti speciali, e questo è il comienzo, il comienzo di io, che è vero, 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 che è vero. Se, in questo punto, ci sono anche alcuni affetti, tra alcuni, che vogliono sostenere, la unuae, non costruite, computiore, non costruita computiore di chiui, di chiui, uomini, di radiamatori, ili accettis, la computillo, ancorogne preta, e ogni devas, costruis, fisiche costruis, e la gioio estis, costruiti, e tivi uomini, nomigias, haculoi. e la angla è belonging, perché, che è intendo? Che ango? Esa è la un'uola. tui posti del 1977 di 1902 poi incominci a costruire per esempio in un periodo esiste un'ata un'ata che è il computato già ogni habis computillo especife per vittludi per esempio attare 2600 comodoro 64 e aliai e grande generazione e conis computilloi qui cia un'una foie la computillo è nera stagione è è così grande che è molto costa che si conneccano con il video che è giusto e pronto il computillo è una fuori che è parte della città di Gavito nell'Occidente di Tailandia, per esempio che è una delle più generazioni effettive cioè chi ha il mio agito mi riceve il special donazzo Intelligent Television che è uno del computillo ma che è un caso è un caso che è un grande fuori del mercato è un grande fuori del mercato e la posta di Aro nel 1905 è un grande il primo punto c'è il mondo ha dividito in due parti in questo modo 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 anche Apple chi ha fatto in questo periodo nel 1976 set giis 1908 var changis propria boion al mercato che ma facile compreni il tion all'ibomo computino che è inverso per molti uomini che non vedi il mondo intanto che ti vi ha non informa il mondo c'è una astute natura che il computino in epoca compreni un'ora lì se non vedi un appurso che non è tutta la natura è tutta la natura infatti la lasta haculo io uomo che lavoravo nella sette decaliari dunque i uomoi la haculo donis la software un'unica lìa e ciò è libera disponibile e si è molto contenta e nella santa iaro lanci il progetto che un uomo non vedi richiesti richiesti da usano e il progetto nome inizia il progetto nuovo richiede di cui viene da libera software lì esplicite voli spalighi di cui lì 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 succesi ne vediamo in questo modo dettagli dettagli per protocollo per protocollo questo più strano che usano strani nomi se quando lì più permessi comprare lì 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 dipende lì 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 che vorresti parte dell'arrivo dell'unico progetto che avvicinano di nuovo la carta della luta, la luta regolata, perché ogni nuovo video che effettivamente la regola di Richard Stallman abbia servizio a realizzare per l'intervento e per liberare il suo paro più funzionale che riguardano i computatori e nel stesso tempo si riguardano anche tutto. Io ho esplorato, che ho nominato Timberners lì, il terreno che ho esplorato in Genova, in Sveglianza. Questo è un'azarda effettiva. Linux. Linux. Yes. Lo, i, no, u, co, sol, co. Tutte l'azarde, che mi diris, trovis maniero comunichigi per l'intervento non solo, ma anche un'azienda, ma anche un'azienda. Un'azienda è iniziata, ma anche un'azienda, ma anche un'azienda, ma anche un'azienda. Non. Farsi. Nella Samaria, nel 1901 e nel 1903, ho inventato, ho inventato effettivamente, un nuovo crosillo, un programma, per trasferire il retto. E' un crosillo, un amici mosaico. Esa è una cosa. Siamo in grado della, della lasta, della lasta teppa, tutverda la Dio. Rettaradio. Musica. E' un'azienda, non è una cosa. Un'azienda è un'azienda, ma è un'azienda grave. C'è un nome San Giggis. Io. E' un'azienda. E' un'azienda. E' un'azienda. Perchè usiamo il telefono, come l'iphone, il telefono, e usiamo il telefono e usiamo il telefono. E' proprio il nome con questo aspetto, ma usiamo l'idono del mosaico. Allora, ho preso almeno al mio tempo, ma... Nel secondo me, è un grande timo per il risparmio dell'informatico, per il risparmio delle comunicazioni intercomputate, che noi non diciamo che abbiamo fatto. Perchè, in questo tempo, tutti semplicemente signano i dati per parlare dei numeri, tutti non pensano per l'ostantezza. Perchè, tutto chiaro, 2.000, uguali a 1.800 più nulla. Perchè poi, se questo è un grande problema, ma il banco, ma il sistema della banca, questo risparmio, è un grande problema. Perchè, se io ne ho caso, buona chance, ma io ne ho caso, la parola del nastro corso. In più, molte persone, in più, in più, in più, come siamo in più, in più, è un grande problema. Vedevamo immagini che nel 2003-2000 non si sapevano che il mercato, l'economia, è frenesia per l'interretto. Tutti sono frenesia, immagini che potrebbero trasformare tutta l'economia del mondo per Tio. Se, post Iuliaro, vedevamo immagini a realizzare e le persone potrebbero ripensare l'economia in ogni maniera. Per questo periodo, vedevamo immagini a texaggio 2.0 giusto per riferire le distanze della nuova parte, dove Tioci potrebbero retronomare la nuova parte del 1901 a texaggio 1.0 Questo è il momento del grande entusiasmo. E poi, più realizzazione. E io, vedevamo immagini a texaggio. Cosa immagini a texaggio? Le persone, gli usanti, sono più grandi. Sono più grandi. E loro potrebbero più facile usare l'interretto in rimedio, che noi, per artisti, buoni siano. Infatti, per esempio di Wikipedia, in questo periodo, in questo periodo, per esempio, Google e Gisgrava, di nuovo, che ci sono più grandi. E la via o se sei Amazon. E anche la renaissance dell'Airport, dell'Apple. che mi scrive anche il chat con il grande neoplasmone. Ecco questa nuova, il terreno più decisivo periodo, che una scelta del periodo della rena computata, più successo e trasformazione. di questo periodo della renaissance di Steve Jobs, che univa anche un Paolo, che aveva molti passi 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 passi. Cioè, di nuovo, io ho scelto con Facebook. Cioè, Facebook è uno dei nuovi imprenditori di Alia Generazio dei Arturovii. Nuova Generazio dei Arturovii. E questa è sufficiente una. A presto, due posti dell'Università, dove avete visto un video, dove avete visto un'Università, che in fondo si intervengono, e i Parigi Egerica, e immagino che l'accusante di Facebook sono più e più di 15 milioni di euro. Oggi, il primo pollo dell'Università dell'Europa. Questa è un anzio, però, è vero, non devo dire nulla. E io, questa è la la foto. Ci sono delle domande, o, se volemo, in questo periodo, guardate, io metto. Ciò vi hava, se mi interessa, ero, per informativo, che io vieno stias, esatto, chi è, che io metto. Robotoi. Yes. 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 No, è stato scritto il bordo. No, ciò è stasciomite, con pita di mano, se il microfono, sono 10 punti. Ma, interesso, pri, me muovai, me muovai, robotoi, nulla, che io imitas, mestoi, ai ho, 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 ai ho. Come in sigtias, exatte, le c'hiago, 1909. Bruch. Ci ti ho già, esattamente scritto dal tecnomata, nuova, arte palipendimentezza, e ti ho in parola. Estas articolo, fac articolo del Bruch, che ho, esattamente scritto dal tecnomata, qu'ello manifesto, nuova, artefariità, inteligentezza, che ho, addosindo il titolo, il titolo è, Elefantoi, ne cacludas, Il titolo vuole referenze al fatto che per molto tempo la tefalità intelligente è solo in miti la mensa capabla, che su per tutto ciò è effettivo. Per cui ogni parola è molto importante, perché effettivamente il ciò è effettivo influisce molto l'anima, in forma di come ecce della pratica. Ciò non è stato... Johann Neumann ha fatto questo giorno in quattro decenni, mi credo. Forciacludi. Sì, anche per noi, e anche alla Turin ha fatto tutto per paperi, algoritmo per paperi, e anche per scena, ma anche in questo è Norbert Wiener, il fondamento del cybernettico che ha fatto, e ancora in questo è un'altra storia per il turco che ha studiato. C'è un'altra storia per il turco. Mi parlo su questo, effettivamente. C'è un'altra storia che ha studiato un grande ruolo, e mi ricordo che ora la storia in cui il momento in cui il momento in cui è venuto contro Kasparov. Questo è un grande momento, perché Kasparov è ancora ancora il champion, il mondo il champion del Shackludado, che in generale è stata considerata la playground del Shackludisto della tutta il periodo del Shackludo e del tutto il mondo, che mi ha anche preparato la storia effettiva. Buona domanda. La notte. La notte finita. La notte finita. Facebook, post, la notte. No, e noi devono decidere chi ha detto, chi ha detto, chi ha fatto la porta del tempo lingua. Mi credo che io... Facebook è un'unica di molte cose simili. Twitter è simile a Facebook, Caglia lì è anche. Non tutti vogliono seguire Zuckerberg, perché tutti i posti l'ho studiato in Grigia ma molti giorni, e io sono tutti comprati, mi credo, se vi sono informati di questo. E sono solo imitazioni, perché io non voglio seguire imitazioni, in ogni caso non avevo solo un anno, ma non mi interessa. Quindi l'idea di essere ben fondata di io, perché in ogni caso lì, non io pensi, rilatti alla usanza e il computo in quella maniera. Per esempio lì, usano molto l'emozione. Li portano le emozioni dell'uomo in la retta. In ogni caso, non è successo di fare questo. Portano le emozioni dell'uomo in la retta. se mi rispondiscono, se mi rispondiscono. Si. Per esempio. Per esempio, qui sono gli importanti, le corrette e i loro, e con i loro. Per esempio, le corrette, i loro si problemi del prodotto, per quello che si avevo il prodotto. Per esempio, la incorporazione dell'uomo in Lino. Di come si è rimando per l'uomo. è stato un grande cambiamento e più maldi nel prossimo periodo possono essere effettivi l'interesse a me è che uno non considera tutte le cose un computatore se ci sono ci sono tutti i computatori tutti i telefono ci sono i computatori c'è un grande problema nella Odeca Iaroli il problema per il mercato è quello né tutti gli uomini che hanno la mano per accettare i computatori vogliono accettare i computatori ma l'esempio per l'automobile questo è il concetto del saturato del mercato comprenderemo tutto questo solo per usare un valore in generale almeno idee per il saturato del mercato dell'automobile e per i computatori sono più 90% dell'uomo che accettano l'automobile accettano ora per i computatori sono 60% ci sono perché il computatore è molto utile ma non costa il computatore è complicato io sono tecnico io voglio io 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 ero uno più 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 sui filmatori ci sono un'altra 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 ci è una un'altra un'altra una delle ferie il l'altro ci sono ancora una un'altra una ciò da da sui usano Inizialmente usavano per tecniche e scienze. Cioè, in cui erano iniziando l'educazione? C'è un teore marcebile? Per l'industria o l'industria? C'è un militista? Cioè, inizialmente usavano l'industria, l'instruzione e l'applicazione. Cioè, inizialmente usavano l'industria, l'instruzione e l'applicazione. Cioè, inizialmente usavano l'interesse. Cioè, mi memoram in Hungaria in la fine della seddeca iaroi, in mia gronda urbo ducent mila, estis unu sola computilo. E, c'è, oni observis la steloin, c'è, t'il, c'è, estis fli gronda vol la class c'ambro. Cioè, post calca iaroi, facte, miam habis personan computinon. En ed è calca iaroi. Yes. Nur la basa in momento. C'è ancora un paue. Pardon, un paue. C'è ancora un paue. C'è ancora un paue. C'è ancora un paue. Ma, la videon, che computillo può essere helpi al homo imparare a corMiccatezio. I, essa è la unua. Per lì la qual è un complotxenno. studento di Anbau è di Stadler Stengelbart io andavo quindi inventi esempio la musa la un nuovo musa chi è una musa? chi è questo è la musa o la capo? in forma di che è la musa chi è la musa o la capo? chi è la musa o la capo? chi è la musa o la capo? chi è la capo o la capo? chi è 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 la capo? effis exacte in 1971 in Ciluio Salvador Allende volis in forma di che costrui democratio che significa io ciò loco pubblico deva stavi se non paga all'Iro al Iureto non è vero interretto se è Iureto e dopo l'erneo mi ne sia su offizio posteio ogni po' tu scrivi bigi messaggi in questo po' e il mio progetto non dice Cyber Scene Cyber che l'anuna è il caffè o i versi in appena senti perché io è stato assassino di io e l'oriente di dove l'origenza lo è il posto è il cio sciangicis e il cio è un vincente se cio può essere considerato l'origenza cio può essere fissi un dato se vola cio cio ci ci dà ogni paese per generale educato per tutta società anche per voce donato per elettronica e rimedio per esempio ciò ciò può fare il cio è grandioso effettivo che due idee sono sempre in vanno a voce che io sono un che lavorano per la Presidente di sono più tempo o Presidente russo se mi membro la scuola buone le domande se volevo ma mi posso provare più più cio effettivo perché mi prego la materiale e mi penso che il materiale è più lungo del tempo che avevo e mi tre volante con la fixa punto per orientare il mapo della historia e la tempo lineal mi posso profondare uno profondare in uno o altro aspecto o mio plazzo della plazzo mi spero che io stas vivante plazzo se ogni interesse io aspettò io posso non mi aspettano che mi ancora mi stiamo in l'est penso che mi posso anticipare e danno al ci a